Si chiama Umbra, il Tempio dell'Ascolto, ed è una struttura in legno bicolore, leggera, innovativa, sostenibile e riciclabile, ispirata al cosiddetto block house, un antico sistema di costruzione in legno massiccio, realizzata da Rubner House in collaborazione con la Fondazione Franco Albini in occasione del Forisalone 2024 a Milano. E' tra gli elementi della mostra evento di interni Cross Vision nel cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano, allestita in occasione della Milano Design Week dal 15 al 28 aprile. Martin Oberhofer, AD di Rubner House. Abbiamo chiesto a tre giovani architetti di progettare un futuro possibile, sempre sulla base di una costruzione leggera, innovativa e sostenibile. Memo Sanchez Cardenas, Carlo Farina e Veronica Pesenti Rossi, dopo una settimana di full immersion tra i massi granitici di Casa Albini e Daglientu, in Sardegna, hanno concepito l'installazione che nasconde all'interno uno spazio modulato su diverse altezze, dove i raggi luminosi scandiscono il passare del tempo e accompagnano il visitatore in un percorso dove il semplice atto di varcare una soglia diventa una simbolica apertura verso un futuro etico e sostenibile, in cui è il legno la materia prima che fa da padrona. Il ruolo del legno sta sempre crescendo, cioè la gente, la popolazione, ma anche i governi spingono verso una transizione ecologica. Il legno è un materiale naturale che immagazzina anche carbonio, cioè costruire il legno significa proteggere il clima e oggi anche con l'evoluzione delle tecnologie siamo in grado di costruire edifici con una performance mai vista prima e sempre con un design all'avanguardia. All'interno di Umbra, l'un filo rosso, reale e simbolico, dà vita a un albero centrale, simbolo del legame che interconnette le persone in un'unica comunità. E qui, che in un gioco di co-creazione, i visitatori svelano i dipinti nascosti realizzati da giovani artisti di culture e paesi differenti. Un invito a esplorare una nuova cultura del progetto che incrocia visioni e orizzonti provenienti da percorsi e culture diversi, abbraccia l'essenza, rilancia i saperi della tradizione e li proietta verso un domani migliore. Rubner House fa parte del gruppo Rubner che compie fra due anni e cent'anni e il gruppo Rubner fa parte di tutta la filiera del legno, dalla segaria fino ai prodotti finiti come porte, finestre, case e opere architettoniche in legno. La grande forza di Rubner House è la costruzione dei pareti prefabbricati con un'ottica fortemente sostenibile, cioè lavoriamo con il prodotto principale in legno, con la fibra di legno, col sughero e con tutti i materiali molto sostenibili. Teniamo anche d'occhio tutti i nostri partner che anche loro seguono un approccio sostenibile. Dopo il Furisalone di Milano, l'installazione partirà per una nuova avventura presso casa Albini ad Aglientu, dove sarà sede dei corsi residenziali di Franco Albini Academy e fulcro dei nuovi progetti in programma dal prossimo autunno.